Ragazzi Un attimo Che il creeper mi ha visto L'ho distrutto Non sono riuscito a registrare però E c'era un enderman Va bene Questo è qua Mi spiace Volevo far registrare la mia combo contro il creeper Però Mentre stavo mettendo Ad avviare di nuovo la registrazione Mi sono accorto che si stava avvicinando Mi aveva appena visto Va bene ragazzi al prossimo episodio Mi ci piace Ciao